La tragedia di Urbino, la galleria resta chiusa per verifiche. Urbino e Fossombrone in lutto, annullati i festeggiamenti di Capodanno. Niente botti di Capodanno a Pesorefano, arrivano le ordinanze. Castel di Mezzo, ancora nessuna risorsa per la strada dimenticata. Verso Pesero 20-24, ecco il calendario 50x50 capitali al quadrato. Buona serata a tutti voi amici telespettatori e telespettatori. Ben ritrovati al nostro telegiornale Rossini News. Edizione di giovedì 28 dicembre che apriamo naturalmente con la tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Urbino che vi abbiamo raccontato e sul quale vi diamo ulteriori ragguagli anche in apertura di questo notiziario perché oggi le nostre telecamere si sono accese alla galleria Cagulino che resta chiusa al transito per tutte le verifiche e le indagini del caso. Una galleria dove ieri si è consumato un incidente frontale, lo ricordiamo, tra un'ambulanza e un pullman che trasportava una quarantina di bambini. Sono morti tutti e quattro gli occupanti dell'ambulanza. Come riepiloghiamo tutti i dettagli in questo nostro primo servizio. Giovedì 28 dicembre 2023, una fine dell'anno funestata da una delle più gravi tragedie stradali che hanno colpito la nostra provincia di Pesaro Urbino in epoca recente. Ci troviamo di fronte alla galleria Cagulino sulla strada statale 73B, se siamo alle porte di Urbino, e a una manciata di chilometri da Fermignano, galleria che oggi è chiusa al transito per le verifiche strutturali dopo l'immane tragedia di ieri. Ieri pomeriggio c'è stato infatti un incidente frontale che ha visto quattro morti. Incidente tra un'ambulanza della Potes di Fossombrone che si stava dirigendo all'ospedale di Urbino e un pullman proveniente da Grottamare che trasportava tanti bambini tra i 7 e i 16 anni, circa una quarantina, che sono comunque rimasti tutti illesi nell'impatto. Ragazzini accompagnati da sacerdote e educatori che erano in vista proprio a Urbino. Un impatto tremendo che è stato ricostruito dalla polizia stradale sul quale si sta ancora indagando perché sembrerebbe che ci sia stata un'invasione di corsia da parte dell'ambulanza, un impatto frontale che poi ha creato un inferno di fuoco con una colonna di fumo visibile per chilometri che è stato fatale per gli occupanti dell'ambulanza. Incendio tra l'altro alimentato proprio dalle esplosioni delle bombole di ossigeno, tre bombole presenti all'interno del mezzo della Potes. Dicevamo quattro i decessi, tutti gli occupanti dell'ambulanza. Si tratta di tre membri del personale sanitario, a cominciare dal medico Sokol Oxa, ha 41 anni di origine albanese, papà di un bimbo di appena quattro mesi, dicevamo albanese che si è laureato in medicina all'Università Politecnica delle Marche e poi ha cominciato a prestare servizio appunto alla Potes di Fossombrone. Cinzia Mariotti, 49 anni, infermiera originaria di Acqualagna, anche lei è mamma. Stefano Sabatini, 59 anni, autista soccorritore di Fossombrone. E poi il paziente che veniva trasportato, Alberto Serfilippi, 85 anni, che veniva trasportato per quello che era un trasferimento d'ordinanza per complicazioni respiratorie che meritavano un ricovero ospedaliero, dunque non un trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Urbino. E invece il trasporto si è tramutato in una tragedia. Di contro la tragedia poteva essere bene peggiore perché sono tutti salvi gli occupanti del Pullman, un Pullman che, dicevamo, trasportava parrocchiani della parrocchia di Cupra Marittima e Grotta Mare nell'Ascolano. È stato fondamentale il sangue freddo dell'autista e la quarantenne della Canali Bus di Monte Prandone che ha fatto scendere tutti i bambini dal retro del Pullman mettendoli in salvo uno a uno. Ci sono stati nove ricoveri in ospedale non gravi a Urbino e Pesaro. Di questi sette bambini, tanto spavento, ma soltanto qualche escoriazione, tutti già dimessi, compreso l'autista che era appunto ricoverato per accertamenti. Tanti naturalmente anche gli attestati di Cordoglio per una tragedia che tocca nel cuore perché si tratta anche di tre morti sul lavoro, tre morti su un lavoro sensibile come quello degli operatori sanitari che sono simbolo di altruismo e che hanno perso la vita durante il loro dovere. Tanti attestati dalle massime cariche istituzionali, a cominciare dalla Regione Marche, dal governatore Acquarole fino al sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni, che ha proclamato lutto cittadino proprio per il comune di Fossombrone. E ora continuano le verifiche sulla galleria, galleria che resta chiusa qui sulla statale 73 Bis perché c'è stato un incendio importante che potrebbe forse aver minato anche la stabilità della struttura. Verrà verificato tutto nelle prossime ore e poi continuano le indagini della Polizia Stradale su quella che è una tragedia davvero senza eguali in epoca recente. Ed oggi è giornata di lutto cittadino sia ad Urbino, comune in cui si è verificato l'incidente, sia a Fossombrone, città d'origine di due delle quattro vittime. Nell'intervento che vi mostriamo ora il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, annuncia anche la sospensione dei festeggiamenti di Capodanno in segno di rispetto verso il dolore relativo a questa tragedia. Vorrei esprimere il cordoglio ai familiari delle vittime del terribile incidente che è accaduto ieri pomeriggio nella nostra galleria delle Conce. Il cordoglio mio personale, di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Urbino è stato un incidente che ci ha sconvolto veramente per come è avvenuto. Ovviamente insieme a questo voglio ringraziare gli accompagnatori, il paroco che accompagnava questa cittadina turistica a Urbino, insieme all'autista che hanno messo in salvo tutti i bambini che erano a bordo del Bulma. Quando ho avuto la segnalazione dal nostro prefetto di recarmi sul posto perché è lei che mi ha chiamato, avvisato ovviamente dalle forze dell'ordine, ci siamo precipitati immediatamente sul posto e avevo per strada il terrore che questi bambini non avrebbero avuto la possibilità di scendere dal Bulma e di rimanere quindi a bordo. Quindi quando ho avuto la notizia che tutti i bambini erano fuori, chiaramente volevo ringraziare l'autista, gli accompagnatori perché hanno avuto la prontezza di riflessi e la fermezza e la capacità di immediatamente far uscire dalla galleria i bambini. Chiaramente subito dopo siamo andati al locale, al centro commerciale dove li avevano portati per rifocillarli e per rassicurarli. Ho visto, avevo avuto cognizioni anche ancora del terrore negli occhi dei bambini, chiaramente che hanno vissuto questo momento terribile. La città di Urbino insieme al sindaco di Fossombrone ci siamo sentiti ieri sera tardi, abbiamo concordato che è assolutamente il caso di dichiarare il lutto cittadino e credo che per quello che riguarda la nostra città sia il caso di annullare tutti i festeggiamenti e quindi in qualche modo porterò a conoscenza la giunta e quindi concorderemo insieme, ma già l'abbiamo in qualche modo già fatto, per annullare tutti i festeggiamenti di fine anno, perché credo che una tragedia così immane non possa non essere rispettata. Cordoglio del mondo amministrativo, dolore del mondo sanitario per i tre operatori, medico, infermiere e autista soccorritore, più il paziente deceduti in questa tragedia stradale. Ce lo ricorda in questo videomessaggio il Presidente dell'Ordine degli Infermieri, Laura Biagiotti. Naturalmente siamo vicini a tutte le famiglie di questi nostri colleghi e anche la famiglia del paziente deceduto. Diciamo che la nostra collega Mariotti Cinzia è iscritta all'Ordine di Pesaro Urbino ormai dal 1994 e Cinzia ha sempre operato con grande professionalità senza mai tirarsi indietro in ogni difficoltà che il lavoro sanitario presenta. Non da meno possiamo dire dell'autista soccorritore di Stefano Sabatini, che è sempre stata una persona disponibile a fare diversi turni in più pur di coprire il turno lavorativo nelle varie difficoltà che c'erano, nella possibilità comunque di mandare avanti l'attività. Una persona sempre corretta, molto professionale e anche il nostro medico che purtroppo Sokol sappiamo che da qui a breve sarebbe ritornato sicuramente in Albania per iniziare una nuova vita, eppure purtroppo non ce l'ha fatta. E diciamo che è importante dire che troppo spesso viene sottovalutato il lavoro dell'emergenza di chi comunque opera direttamente sul nostro territorio sanitario. L'emergenza è qualcosa di particolare, qualcosa che ogni cittadino ne usufruisce nel momento del bisogno. Immaginate quando uno chiama da casa perché magari in preda un ictus, ha un infarto, ha un qualcosa che comunque ti crea difficoltà verso la possibilità di mantenerti in vita. Ecco che parte subito l'ambulanza. L'ambulanza quindi è un qualcosa che deve arrivare in terpi stretti. Prima arriva e meglio è. Quante volte parliamo quanto è importante arrivare subito e quanto è importante la sinergia tra l'infermiere, il medico, quanto sono importanti per poter predisporre un percorso curativo. Quindi è l'insieme di questo lavoro che porta a un risultato. E vedere quanto è successo fa capire quanto erano uniti e quanto è importante soccorrere il paziente. Quindi noi in rappresentanza, naturalmente parlo io, ma di tutti gli operatori sanitari, non ci azzarderemo mai a trarre delle conclusioni. Qui non ci sono colpe. Qui c'è una situazione dove qualcuno stava cercando di portare a termine il proprio lavoro. Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato oggi senza vita il corpo di Giovanni Pangrazi, 87enne di San Giovanni Maregnano, di cui si erano perse le tracce il giorno di Natale e le cui ricerche sono state estese anche al territorio pesarese. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 13 nel greto del fiume Ventena all'uscita delle caselle autostradale di Cattolica. Il corpo dell'anziano era occultato dalla fitta vegetazione ed è stato determinato l'impiego di unità Cinovifile da giorni utilizzate nelle ricerche. Sia a Pesaro che a Fano arrivano ordinanze comunali di divieto di esplosione di petardi nei giorni di Capodanno. A Fano l'ordinanza sarà in vigore dal 30 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui si vieta ad esplodere fuochi d'artificio e petardi a meno di 300 metri da ogni centro abitato. A Pesaro si vieta invece pena multe di 150 euro di esplodere botti dal 31 dicembre all'8 gennaio in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe e in prossimità di ospedali e case di cura. Per Pesaro si tratta di una delle tre ordinanze legate al cater Capodanno del 31 dicembre. Un'altra dispone infatti dalle 20 di domenica 31 alle 3 di mattina del 1 gennaio che ci sia il divieto di vendita e asporto di utilizzo e detenzione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e in alluminio, il tutto in piazza del Popolo e vie limitrofe. Un'altra ordinanza modifica la viabilità alla sosta in centro storico dal pomeriggio del 31 dicembre. Tanti divieti di transito nelle vie attorno alla piazza, mentre ricordiamo che in piazza del Popolo l'accesso sarà consentito solo attraverso i varchi autorizzati. Si entrerà solo da via Branche e via Rossini, si uscirà da via San Francesco, via Baviera e Corso 11 settembre. Ed ora cambiamo argomento, andiamo con le nostre telecamere nel parco del San Bartolo, dove dall'alluvione dello scorso maggio c'è una strada che risulta totalmente inaccessibile e che non sta scrutando risorse utili per poter essere ripristinata. È uno dei più bei sentieri di collegamento fra collina e mare capace di unire un paesaggio da cartolina, quello del parco San Bartolo. Malpari della strada del mare di Fiorenzuola di Focara, anche la strada Rive del Faro di Castel di Mezzo rappresenta un percorso interrotto e dimenticato. Diventata pubblica nel 2018, la strada è stata prima danneggiata dall'incendio del 2017 al quale sono seguiti frane e smottamenti fino al recente evento alluvionale dello scorso maggio che ha dato il colpo di grazia rendendo la strada del tutto inaccessibile. Strada chiusa ma strada soprattutto enormemente sottovalutata per il suo valore paesaggistico, turistico, di sicurezza ambientale e di fruibilità verso la spiaggia di Castel di Mezzo. Ne sono sicuri i due ex presidenti del parco, Davide Manente e Stefano Mariani, che invocano quegli stanziamenti finora ignorati dalla politica. La strada Rive del Faro, che è un patrimonio culturale, storico, ambientale e turistico di tutto il San Bartolo, come quella di Ferenzola, è diventata pubblica con delibera e votata l'unanimità nel 2018 e come vedete in questo punto noi abbiamo fatto alcuni interventi sempre nel 2017 per mettere in sicurezza anche la provinciale, però da allora ad oggi è passato l'incendio, purtroppo non sono previsti stanziamenti economici per far sì che questa strada possa essere fruita in sicurezza, sia dal punto di vista, ripeto, anche della sicurezza per la protezione dell'incendio, ma anche della fruibilità turistica. È una risorsa importantissima per il nostro territorio, non riusciamo a capire come mai ancora non siano state stanziate le risorse per riaprirla. L'amministrazione comunale, assieme al presidente del quartiere Yolanda Filippini, nella persona del capo di gabinetto del sindaco, Massimiliano Madori e la protezione civile, sono venuti sul posto per fare tutte le verifiche, hanno fatto una loro relazione e hanno inviato alla regione. La regione ha ritenuto che questa strada non sia prioritaria, sbagliando perché sicuramente non conoscono il territorio, in realtà questa è fondamentale, come dicevo sotto ogni punto di vista, di sicurezza turistico-ambientale, fondamentale questa strada e quindi devono essere messe delle risorse alla luce dell'alluvione che si è stato per ripristinarla. Dobbiamo ricordarci che in un territorio che vuole fare del turismo una di quelle che sono le priorità e della tutela ambientale una priorità ancora superiore, questa strada riveste un aspetto fondamentale. Non solo questo, in realtà adesso che si stanno investendo dei soldi anche per le scogliere qui sotto Castellimezzo e per il ripascimento è fondamentale che, unito a quel finanziamento che intorno ai 250 mila euro circa, sia previsto dalla regione, alla luce dell'alluvione che è successo, dei fondi, quindi in regime speciale, per la riapertura di questa strada, che non può rimanere chiusa proprio per una questione di fruibilità del territorio. E mancano davvero una manciata di giorni al 2024, anno di Pesaro, capitale della cultura, col suo programma che coinvolgerà tutta la provincia. E ora arriva anche il calendario del progetto 50x50 capitali al quadrato. È il vero e proprio calendario, diciamo, del 50x50, inteso non solo come successione di eventi, ma come focus che verrà messo in particolare su ogni comune nelle 50 settimane, 52 settimane, insomma, dell'anno. Quindi è uno strumento, uno strumento, diciamo, anche comunicativo della capitale italiana, ma ci serve un po' a scandire il tempo di quella che sarà l'anno del capitale, darci l'appuntamento settimana per settimana nelle varie località, iniziare anche ad inquadrarle dal punto di vista della distanza, dei collegamenti, alcune informazioni che vengono date all'interno del calendario e il, diciamo, il calendario stesso, di cui oggi distribuiamo una prima stampa, si arricchirà di settimane e settimane, di mesi in mesi, anche nelle future edizioni, dei dettagli e delle iniziative che i comuni andranno realizzando e comunicando. Già oggi siamo insieme a tanti amministratori che sono qua per raccontare, appunto, il focus della loro settimana in particolar modo e per dare questa idea di insieme che è l'avvio di questo viaggio importantissimo che è la capitale 24. Tornano gli appuntamenti con il doppio concerto di Capodanno dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Appuntamento l'1 gennaio del 17 al Teatro della Fortuna di Fano e alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro. Concerti che ogni Capodanno registrano il tutto esaurito e che saranno ancora più speciali in quanto primi eventi del 2024, anno di Pesaro Capitale della Cultura, nonché anno che celebra i 30 anni dell'orchestra, i 30 anni di attività dell'orchestra sinfonica. A Fano sul palco del Teatro della Fortuna salirà il tenore solista Raffaele Abete e sul podio della Rossini Alfredo Salvatore Stillo, pianista, musicologo e direttore d'orchestra. Nel concerto di Pesaro salirà invece sul podio il direttore d'orchestra Riccardo Bisatti in un concerto che vedrà al centro le note del pianoforte di Leonora Armellini. E dopo il Cater Capodanno e i concerti dell'1 gennaio il primo grande evento di respiro provinciale di Pesaro Capitale della Cultura sarà senz'altro la festa nazionale della Befana che torna ad Urbagna dal 4 al 6 di gennaio. È una festa a livello nazionale e siamo molto orgogliosi di questo, insomma è un punto di riferimento ormai per tante famiglie, ogni anno arrivano in migliaia con camper o anche in camper in particolar modo ma in ogni modo ed è una festa che coinvolge le antiche tradizioni, queste Befane che dalla mattina alla sera girano in mezzo alle vie della città, insomma riportano proprio il sapore della festa, quella antica, della tradizione. Quest'anno è la 27esima edizione della Befana e anche quest'anno siamo pieni di novità, la festa si è allargata, sarà molto più grande e ci saranno tante novità anche a partire dalla discesa che non sarà più solo una o due ma saranno tre discese per giornata e ci saranno tanti laboratori, tanti spettacoli, tre giorni di tanti giochi e tanta allegria, insomma, aspettando la Befana. Un grande evento che catalizza migliaia di turisti e che soprattutto dà un'economia al nostro territorio molto importante perché tanti turisti che provengono da tutta Italia si fermano a comprare i prodotti, si fermano a dormire, si fermano a mangiare e si fermano anche a visitare i nostri borghi. Non è solo una vittoria per Urbagna ma è una vittoria per l'intero territorio perché tutti i turisti che vengono, che sono venuti e che verranno danno un'economia al nostro territorio. Quindi un importante evento cofinanziato dalla Regione Marche, da un nostro main sponsor che è LC e Villa Lacerbara che ringraziamo veramente di cuore perché solo uniti, solo insieme possiamo essere vincenti. La festa nazionale della Befana è un esempio che racchiude e chiude tutti gli eventi ma è una festa che tradizionalmente è la più importante del centro Italia ma io direi quasi a livello italiano una festa così ben organizzata, così ben gestita e soprattutto un evento che da altre parti non si vede. Quindi abbiamo un grandissimo successo e soprattutto un grande orgoglio per i nostri volontari che organizzano un evento che catalizza migliaia di turisti e che soprattutto è propulsore per un'economia del nostro territorio. Ed ora concludiamo il nostro notiziario soffermandoci sull'importanza del sonno e su qualche consiglio per un buon riposo. Amici telespettatori ecco qui le molle dell'arte del riposo. In realtà sono le molle che sono dentro questi materassi però noi abbiamo bisogno di Giovanni per farci spiegare meglio la funzione e l'utilizzo di queste molle. Ci sono diversi tipi di molle e hanno ogni molla un lavoro diverso. Allora questo innanzitutto che è un campione della molla tradizionale, la famosa matrasso a molle ortopedico si usa questo tipo di molla che è una molla biconica che è tutta collegata tramite una spirale in acciaio per cui quanto lavora assieme non ha un lavoro capillare nel dormire. Poi abbiamo, queste qui fanno parte delle molle indipendenti, sono le classiche 800 molle, 7 zone, le 1600 molle e le 3200 molle. Come si può notare sono diametri di molle diversi, sono molto più piccoli in base alla quantità di molle. Molte persone pensano, forse giustamente come dare a pensare, che più molle ci sono, le 3200 molle, sia un materasso più rigido a confronto delle 800. Dicono, ci sono più molle, più rigidità. Non è vero perché le 3200 molle sono più piccole ma hanno anche un supporto molto minore. Per cui cosa succede? Che sono la stessa portanza, diciamo, più o meno delle 800 molle, ma danno un accoglimento, un'accoglienza al corpo molto più capillare. E molto più, cioè tu dove spingi, vedi qui spingi una molla, qui è molto più grande, qua fa corpo diversamente. Per cui più molle ci sono, tra virgolette, è quasi più morbido è, più capillare è nell'accoglienza. Poi dipende sempre, come si parlava prima, di come viene abbinato il sandwich, chiamiamolo, tra molle, strati superiori e bottitura, quello che viene. Ma di base le molle sono, sono la diversità di molle, si nota a occhio nudo, la grandezza di molle, vedi, già tra le 1.600 e le 3200 molle sono molto, nello stesso spazio ci sono molte più molle e sono molto più piccole, con molte più capillarità. Bene, abbiamo visto allora che la tecnologia è sicuramente andata avanti e si è evoluta. E anche l'altezza di questi materassi naturalmente è un pochino più accresciuta. Mi viene in mente allora una curiosità Giovanni, una volta si giravano i materassi per fargli prendere aria o per fargli riprendere un po' la forma. Adesso? Allora, diciamo che oggi, come dicevi tu, la tecnologia è cambiata in generale per tutti i materassi, per cui è cambiata anche la manutenzione dei materassi. Considera che una volta i materassi avevano un lato invernale e un lato estivo. Oggi è una cosa che quella è andata a scomparire per il fatto che oggi ci usano fibre ad allergiche termoregolatrici, per cui l'ane, cotone, per caldo e freddo, quello non esiste. E in più c'è una cosa che una volta non c'era, per l'igiene, la respirabilità, la lavabilità della fodera, per cui tu oggi la fodera la puoi lavare in lavatrice, la puoi sterilizzare, invece una volta era una scatola chiusa dovevi sbatterlo per la polvere, aspirapolvere, oggi questa cosa qui non esiste. Invece per quello che riguarda l'usura del materiale, la manutenzione del materiale come usura, il consiglio che noi diamo, che è un consiglio penso generalizzato, è quello di ruotare il materasso testa piedi almeno una volta al mese. Perché questo? Perché innanzitutto di solito nella coppia ci sono pesi diversi uomo-donna e poi noi fisicamente usiamo la parte superiore del corpo, dal bacino in su, abbiamo circa il 70% del peso, che va a usare il 70% del materasso superiore. Ruotandolo, mettiamo la parte non usata, che tra virgolette ha sotto le gambe, sotto la schiena, lo usiamo uniformemente a 360 gradi. Questo fa in modo che il materasso non abbia avvallamenti strani, più basso da lui, più alto da lei, nel mezzo, e girandolo, ruotandolo, testa e piedi, lo usiamo uniformemente, lo usiamo per più tempo, lo miglioriamo la durata del materasso. E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News, vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente, a cominciare dallo speciale in prima serata, questa sera alle 21.20, dedicato al calendario Midor, calendario che ogni anno si sofferma su uno dei comuni della nostra provincia di Peso Rubino, e per questo 2024 l'azienda di detergenti del Montefeltro ha realizzato il suo prodotto canalizzato su Pesaro, città capitale della cultura 2024. È giovedì ma non c'è insieme a Canestro, ricordiamo che ci sarà l'appuntamento della VL sabato a Bologna contro la Virtus alle ore 21. Insieme a Canestro vi augura buone feste con la nostra Elisabetta Ferri e i suoi ospiti che torneranno in diretta giovedì 18 gennaio alle ore 21.20. Non va in vacanza invece la diretta di Buongiorno Rossini con il nostro Paolo Pagnini che vi terrà compagnia domani in diretta alle 7.20, così come ogni rassegna stampa dei quotidiani locali prevista dal lunedì al sabato. Si conclude invece qui l'informazione di Rossini News e vi auguro una buona serata e buone feste in compagnia dei nostri programmi.